adesso andiamo a vedere il progetto di tocca il mio cuore è stato ricostruito l'arrangiamento vediamo quindi suonando i vari strumenti traccia per traccia questa è la ricostruzione questo è l'originale chiaramente si tratta totalmente di suoni campionati questa era la sovrapposizione dell'originale con la ricostruzione come vedete sono perfettamente sovrapponibili andiamo a sentire tutto ma con i dovuti intervalli adesso arriviamo alla parte della seconda strofa vedete che è tutto studiato battuta per battuta e adesso il ritornello adesso stiamo per ascoltare il bridge e poi lo special adesso lo special dove cambia un po' l'armonia adesso l'altro ritornello si tratta di un 6 ottavi anche a livello di sonorità è molto simile come vedete ecco hanno la stessa durata è stato impostato un BPM regolare per tutto il brano al prossimo video